Ok, direi che ci sono abbastanza studenti. Quindi stavamo parlando delle closure che quindi sono un meccanismo tramite il quale le funzioni annidate in scope più esterni, quindi che possono fare accesso a variabili che sono al di fuori del loro scope, ricordano il valore di queste variabili, se ovviamente lo usano nel codice, come in questo caso il my name, anche una volta che lo scoppio esterno è stato chiuso, cioè la funzione non è più in esecuzione, griter non è più in esecuzione, perché qui sotto quando abbiamo finito griter non è più in esecuzione, ma la funzione si ricorda il suo valore e vi ho fatto vedere in Visual Studio Code come andarvelo a vedere. Non che di solito ci serva andare a vederlo, ma di nuovo per sperimentare all'inizio, per capire come funziona il meccanismo è molto utile. Questa cosa funziona solo in Visual Studio Code, ho provato nella pausa con il Python Tutor, è un ottimo strumento, ma ha i suoi limiti, chiaramente con le funzioni non riesce a darci questa informazione, cioè a farci vedere dove questa informazione viene mantenuta. Va bene per capire un po' i riferimenti quando abbiamo array oggetti e così via, però, diciamo, fatto quello dovrete fondamentalmente, come in qualsiasi linguaggio di programmazione, andare a sperimentare con un ambiente di sviluppo, magari col debug, come in questo caso, e andare a dispezionare le variabili, i vari elementi, così per capire come funzionano i meccanismi se avete dei dubbi. Ok, quindi concludiamo questa cosa sulle Clojure e poi facciamo un po' di esempi pratici. Sapete che abbiamo quelle slide in cui ci sono tre esercizi, proviamo a svolgerli insieme, magari non riusciamo a completarli tutti, però, diciamo, proviamo insieme a risolvere. Dunque, quindi abbiamo detto delle Clojure, per cosa ci servono le Clojure? Vi dicevo prima della pausa, le Clojure sono una chiusura, un chiusura in termini di accessibilità, no? L'accessibilità è rimasta chiusa solamente a una funzione che ha visto il valore nel momento in cui aveva la possibilità di vederla. nessun altro può andare ad accedere a quel valore, no? Quindi, in pratica, possono essere un meccanismo per consentirci di limitare l'accesso a dei valori all'interno di JavaScript, dove non è possibile fare diversamente, perché? Perché tutto pubblico è tutto accessibile, anche le proprietà degli oggetti, eccetera. l'abbiamo detto prima, tutto pubblico. Quindi, se io volessi nascondere, bloccare l'accessibilità delle informazioni, come faccio? E non c'è nessun'altra maniera se non questa. Perché voglio bloccare l'accessibilità delle informazioni? Sapete che è una buona pratica di programmazione. Crea un oggetto, o meglio, diciamo, in un linguaggio tradizionale, crea una classe con le sue proprietà e i suoi metri, ci sono le proprietà private, perché voglio che siano manipolate solamente tramite i metodi che io metto a disposizione, non che arrivi qualcuno che decida di andermi a cambiare la proprietà senza dirlo all'oggetto, alla classe. Quindi, per esempio, le closures si possono usare per simulare degli oggetti, diciamo così, tipo tradizionali, con dei metodi, no? Se non hanno metodi, allora sono oggetti in cui uso le proprietà. Ma sono quasi solo delle strutture, no? Delle struct del C, diciamo così. Se invece hanno dei metodi, la cosa diventa interessante, però se hanno dei metodi vorrei evitare che chiunque possa andare a modificare le proprietà. E quindi così posso creare un oggetto. Prendo una funzione, gli do un nome, ha una sua serie di proprietà che a questo punto sono le variabili con visibilità all'interno della scope della funzione. Adesso let value 0, qui facciamo un normale contatore, crea una funzione, get next, che mi dia il prossimo valore, cioè il valore del contatore, e intanto aumenti di 1, no? Quindi get next, definita come arrow function, non prende parametri, ritorna solo un valore, siccome devo fare due operazioni, devo per forza aprire la graffa, anche se è un arrow function, fare la mia operazione e fare return. Oppure avrei potuto scrivere return value++, insomma comunque, dipende da come voglio scriverla, quando voglio fare l'incremento, eccetera. E poi la ritorno, quindi nel momento in cui io creo counter, fondamentalmente ho creato una specie di oggetto, dico specie di oggetto perché in realtà in questo momento ho creato un riferimento, una funzione, cioè eseguo counter e mi ritorna una funzione, una funzione che è l'unica funzione di quell'oggetto che fa una sola cosa che è incrementare il valore, no? Quindi ho realizzato un primo meccanismo semplice per creare un oggetto che ha un valore nascosto all'esterno, cioè io non posso andare a sapere qual è il valore di value se non usando, se non chiamando count. Count mi prende il valore e lo incrementa anche di uno, perché così volevo che funzionasse. E sono indipendenti, no? Perché ognuno ha il suo, se io creo un count 1, un count 2, non solo dopo, ma anche prima, quando uso count 1, conto sul count 1, quando uso count 2, conto sul count 2. Tiamo un occhiato ad un esempio più complicato, un pochino più complicato e poi lo proviamo. Counter. Counter, sempre come prima, no? Il contatore è n. Adesso, anziché ritornare una funzione sola, ritorno un oggetto che contiene due funzioni. Contiene due funzioni, ma non contiene il valore, no? Perché il valore sarà accessibile perché sta nella closure delle funzioni che ritorno. Quindi, return, aperta, graffa, quindi un oggetto che ha due proprietà, che in realtà sono dei metodi perché io le definisco come delle funzioni. Function, aperta, graffa, return, n più più, quindi una è la funzione count e una è la funzione reset. Function che non prende parametri, che fa n uguale a 0. e queste possono farla perché hanno n nel loro scope lessicale, no? Quindi, in questo momento, nel momento in cui sono definite, loro vedono n. E quindi si ricordano come fare a vedere n, cioè si ricordano qual è la loro closure, mettono questa n nella loro closure. Quindi, se io vado a creare let c counter, let d counter, a questo punto c e d sono dei riferimenti a degli oggetti. Oggetti che hanno due proprietà, o meglio, due metodi, perché abbiamo detto che queste proprietà sono dei riferimenti a funzione, che possono essere chiamati c, count, aperta, tonda, mi darà 0 la prima volta, se lo richiamo mi da 1 e così via, no? A un certo punto faccio reset e metto dentro 0. Notate, questa non ritorna a nulla, vabbè, ho deciso di farla così. Potevo anche fare return n se mi andava. E così via. E di fatto ho realizzato due oggetti, ho realizzato anzi una specie di prototipo di oggetto, poi ho realizzato due istanze di questo oggetto in cui ho nascosto n al codice più esterno. Cioè qui non c'è alcuna maniera di accedere ad n se non tramite i metodi che io ho messo a disposizione che sono nell'oggetto ritornato da counter. Ok? Quindi andiamo a provarlo. Io mi sono fatto il copio e incolla di questa cosa. Quindi se noi andiamo... Allora, stoppiamo. Incolla sempre sullo stesso file per una questione di comodità, perché nel momento in cui avete poi più file, nella stessa cartella diventa un po' un pasticcio. Per fare le prove cominciamo così. Poi quando facciamo l'ultimo esempio vi faccio vedere appunto che effettivamente abbiamo poi bisogno di una cartella per esempio, perché gli esempi cominciano a diventare un po' più complicati e hanno bisogno di file di supporto. Quindi questo è lo stesso codice che c'è sulle slide. Ho proprio fatto copia e incolla ieri per provarlo. Quindi function, counter, n, eccetera. E andiamo a vedere come funziona. Quindi run, node. Ok? Quindi questa function è stata definita. Ok. Adesso facciamo c, counter. E non entro più nella funzione. C counter e d counter. E adesso in c, ind, ho due oggetti. Vedete che sono due oggetti qui sulla sinistra che hanno due proprietà, no? Due oggetti che hanno due, ognuno ha due proprietà. Una proprietà che si chiama counter e una proprietà che si chiama reset che puntano a due funzioni. Se io li apro, il bello di questo debugger è che posso fare tutto quello che voglio, quindi andare a aprire, andare a aprire count, c'è la funzione, la funzione, come prima, gli scope. e lo scope ha la sua closure dove trovo il famoso n. Così, per curiosità. Adesso non andiamo sempre ad aprire, se no non finiamo più. Quindi io faccio ccount e faccio console log così. Quindi l'esempio è leggermente diverso. Faccio console log giusto per vedere il risultato, se no dovrei andarmelo a segnare una variabile, a vederlo lì nel debugger. Non finisco più. Zero, no? Ccount, uno. Perché? Perché il più più lo faccio dopo il return, e quindi la prima volta mi ritorno a zero. Bene, è una sintassi un po' più abbreviata. Seconda volta mi ha ritornato uno, perché prima era una, adesso n varrà due. Adesso io vado a cercarlo nella closure. Sono curioso, vedete che vale due. Ma lo posso vedere solo di qui, è solo perché questo è un debugger, ma nel codice non ho alcun modo di vederlo. che è un bene nel senso che sono riuscito a nascondere, quindi a isolare delle variabili dal resto del codice, che è uno dei principi fondamentali per scrivere del buon codice. perché così se faccio degli sbagli, riciclo i nomi, eccetera, io posso avere altre variabili che si chiamano n, eccetera, se metto insieme il codice, le due cose non si pestano in piedi. D, D riparte da zero, quindi conta in maniera indipendente, di zero, uno, no? Potete fare tutto quello che volete. Facciamo Creset. Ecco, Creset, qui non ho messo console.log perché era undefined. Forse era bene metterlo. Avremmo visto che ritornava undefined, perché Reset non ha un return, e quindi il return implicito di una funzione che non ha return è undefined, come abbiamo detto prima. Console.log, Ccount, quindi l'ho resettata e questa volta mi darà zero. Mentre se io invece vado a fare D, vedrete che mi esce due. Quindi i due N sono indipendenti, pur essendo lo stesso codice, no? Quindi non è che ho scritto due volte, due funzioni, ho scritto lo stesso codice, e ho due closure diverse, perché le due funzioni accedono a due N che sono stati creati in due momenti diversi, dal prima chiamata counter e dalla seconda chiamata counter. Quindi erano due N differenti, in due scope diversi. E quindi sono finiti in due closure diverse. Ok. Ricordo se ci sono domande, scrivete sempre sulla chat. Ok, quindi abbiamo provato quel codice. Facciamo solo un ulteriore passetto e poi ci fermiamo e facciamo degli esempi. Quindi le funzioni sono in grado di proteggere lo scope delle variabili e delle funzioni più interne, perché sono uno scope che nel momento in cui termina l'esecuzione della funzione non è più accessibile se non tramite il meccanismo delle closure. Ok. Siccome sono così utili, c'è qualcuno che ha pensato di usarle, diciamo, praticamente anche solo una volta, semplicemente per nascondere, diciamo, il contenuto. e quindi sono state, diciamo così, è stato, ha preso piede questo modo di, di, di eseguire funzioni che si chiama IEFE, Immediately Involved Function Expression, in cui definiamo una funzione e la eseguiamo immediatamente. No? Quindi, aperta tonda, chiusa tonda, perché dobbiamo dire che cos'è che eseguiamo, la sintassi non ci consente di aprire e chiudere una tonda dopo la graffa. Quindi mettiamo tutto in parentesi tonda e la eseguiamo, quindi chiamiamo questa funzione. Definita e eseguita nella stessa istruzione. E questo ci serve, per fare lo stesso esempio di prima, ci assegniamo il risultato di quella funzione, definita e eseguita immediatamente. chiaramente non possiamo creare due oggetti in questa maniera. Abbiamo un unico oggetto, però abbiamo nascosto tutto il contenuto. E quindi l'unico motivo per cui vi faccio vedere queste, Immediately Involved Function Expression, è perché nel momento in cui si andranno a costruire cose più complesse, giusto per vostra conoscenza, quindi andiamo a mettere codice, di diversi file, scritto da diverse persone, insieme, vogliamo isolarlo l'uno dall'altro. Allora, se racchiudiamo tutto quel codice in qualcosa che viene dichiarato, eseguito immediatamente, ritornandoci solo ciò a cui dobbiamo accedere, e di fatto siamo riusciti a isolarlo da tutto il resto del codice. E lo facciamo così. E abbiamo bisogno di eseguirlo una sola volta, nel momento in cui lo importiamo, diciamo così, nel nostro codice. Infatti è il meccanismo che sotto sotto viene usato per, quando vedremo i moduli JavaScript. La nostra sintesi sarà molto semplice, però dentro JavaScript funziona in questa maniera e mantiene tutto nascosto al resto del programma, proprio per isolare i vari pezzi del programma. Ok. Ah sì, ecco l'ultimissima cosa. Poi, promesso, facciamo l'esercizio. Ecco, adesso che abbiamo finito di parlare di funzioni, vi ho detto ad un certo punto, se torniamo indietro nelle slide, che c'era un ulteriore modo di creare un oggetto, che era con le funzioni costruttore. E si può fare, si fa in questa maniera, si usa una lettera iniziale maiuscola e definiamo le proprietà col this. Quindi se noi facciamo function char aperta tonda, quello che vogliamo, quindi questo è un costruttore che prende i parametri che vogliamo noi, quelli che vogliamo dargli, oppure dei valori di default ce li mettiamo noi, eccetera, con tutto quello che volete. Usiamo, cioè definiamo le proprietà usando this, alla fine ci ritroviamo, usando la parola chiave new, e chiamando questa funzione con la parola chiave new, un oggetto, un oggetto che ha queste proprietà, a cui possiamo fare accesso anche senza più il this. Quindi è come dire, questo è un po' come se fosse istanziare una nuova istanza di una classe in un linguaggio tradizionale, e che ogni tanto è un po' più comodo del farsi semplicemente una funzione e andare a fondamentalmente farsi ritornare l'oggetto della funzione, come scrittura un pochettino più chiara. Poi parleremo più avanti di come funziona il this in Java, perché è qualcosa che merita tanta, come dire, attenzione, perché ci sono tutta una serie di questioni da esplorare. Però questo è utile nel momento in cui vogliamo avere un qualcosa di un po' simile appunto alle classi tradizionali in cui siamo abituati a vedere un punto dove viene definito il prototipo della class, quindi il prototipo dell'oggetto, cioè la classe, quindi se fossimo in Java, class con il suo nome e le sue proprietà, e questa ha una sintassi abbastanza simile, quindi è utile conoscerla. E occhio però che qui non si chiama la funzione e basta, ma si deve chiamare la funzione con il new, che è una parola chiave apposta di JavaScript. Ok, le date le facciamo dopo, quando ci servono. E quindi direi a questo punto di andare a fare qualche esperimento e quindi andare a fare un po' di esercizi. View, full screen. Ok, quindi avrete, spero, già dato un'occhiata a questi tre semplici esercizietti e andiamo a provare a svolgerli. Quindi apriamo il nostro Visio Studio Code e andiamo a cercare di capire cosa ci viene chiesto e di provare a scrivere un po' di codice JavaScript. Mi raccomando se... Ah, c'era poi una domanda, adesso rispondo. Mi raccomando, se avete dubbi o domande, chiedete perché altrimenti appunto diventa solo una semplice spiegazione che forse ha un'utilità più limitata. Il new, mi scrivo, no? Quindi torniamo un attimo sulle side di prima. Quindi il new può costruire solo con funzioni se car fosse stata un object semplice e funzionava? No, credo di no. No, il new può costruire solo con funzioni perché di fatto le mette a disposizione questo meccanismo del this. Comunque torniamo su questa cosa del this perché il this in Java è molto particolare. Il this è riferimento allo stesso oggetto come sapete dagli altri linguaggi di programmazione però diciamo a seconda del contesto funziona in maniera un po' diversa. Mi verrebbe da dire JavaScript come vi ho detto all'inizio è un linguaggio nato in dieci giorni e quindi in certe cose ha un po' di limitazioni che mano a mano nel tempo si cerca di aggiustare, di limare, eccetera ma il fatto che sia nato consentitemi di dire male e in fretta ce lo portiamo dietro diciamo un po' sempre ci sono certe cose che se non vogliamo rompere la compatibilità col passato chiaramente dobbiamo per forza portarci dietro. Ok, andiamo allora a vedere un esercizio e questo è un normale esercizio su di array e quindi quindi stiamo facendo un passo indietro e cercando di riassumere tutto quello che abbiamo visto finora in qualche esercizietto. Quindi abbiamo un esercizio su di array credo poi su di sulla manipolazione delle stringhe e poi sull'usare un pochettino gli oggetti mettendo insieme le due cose che sviluppiamo adesso. Quindi scriviamo un piccolo programmino per gestire i punteggi dei vostri esami vabbè che ha preso la laurea triennale definiamo un array con tutti i punteggi in ordine cronologico ignoriamo il codice eccetera eccetera ecco e poi qui un po' di codice da provare a scrivere così facciamo pratica eliminiamo i due voti più bassi e aggiungiamo due voti che sono uguali alla media arrotondata dei punteggi esistenti e poi stampiamo il tutto prima e dopo mostrando la media in entrambi i casi quindi diamo un po' un'occhiata come possiamo risolvere un esercizio di questo tipo è un esercizio di fondamenti di informatica come logica di programmazione quindi non c'è niente di particolarmente difficile nella logica di programmazione che dovreste risolvere tranquillamente a occhi chiusi quindi allora io parto da zero parto qua chiaramente sto facendo copia in colla solo per velocizzare un pochettino da la lezione se no perdiamo tempo solo a scrivere però certe cose le scriviamo perché sono quelle che ci interessano e che vogliamo capire partiamo con un array di voti questi sono i voti che ho preso 18, 30, 25 ecc in ordine cronologico allora dovevo prima di tutto modificarli però come avete visto alla fine mi veniva chiesto di stampare entrambi gli array sia l'originale sia il modificato quindi quindi per prima cosa va bene per prima cosa devo fare una copia dell'array quindi come faccio a fare una copia dell'array const modified scores uguale quindi non so se qualcuno vuole suggerire aspetta c'è una domanda una curiosità l'unica differenza nell'usare Node.js su Windows anziché VM su Linux era la gestione del case sensitive sì la gestione del case sensitive è sicuro e la vediamo diciamo tra poco nel momento in cui dobbiamo importare un modulo dobbiamo fare attenzione ad averlo scritto col case corretto e ci servirà il modulo verso fine lezione quando usiamo quello della data e poi diciamo è meno testato quindi se ci sono dei piccoli malfunzionamenti di un qualche tipo magari andate in giro cercate eccetera e c'è scritto sì questo è un problema che si verifica su Windows e magari c'è anche scritto come aggiustarlo però come dire abbiamo già i nostri problemi e quindi cerchiamo di io vi consigliavo di non usarlo semplicemente perché appunto poi quando incontrate un malfunzionamento non sapete mai se un malfunzionamento è dovuto a qualcosa che avete sbagliato voi o al sistema ok array array off chi suggerisce proviamo off my scores ok io vi consiglierei mano a mano che scrivete il codice di provarlo direttamente quindi ok gira senza dare errore è già qualcosa possiamo anche ecco una cosa interessante che esiste un'istruzione debugger in javascript che possiamo usare che serve a far sì che il codice si fermi automaticamente sull'istruzione debugger e se state eseguendo in un ambiente di sviluppo vi invoca il debugger così andiamo a vedere cosa c'è dentro senza dover mettere il breakpoint tutte le volte fare questa operazione allora è quello che volevamo a me sembra di no nel senso che come vedete il my scores ha sette elementi no lunghezza sette il modify scores ne ha uno no di indice zero se noi andiamo a vedere length in modify scores è uno quindi ringrazio che ha suggerito array off pur essendo sbagliato però ci ha permesso di vedere una cosa no vi ricordate array off è quello che prende i parametri ma uno dopo l'altro come singoli parametri quindi se io faccio giusto per farvi capire my scores my scores proviamo a rieseguire quindi no poi non dovremmo fare tutta questa come dire manfrina vedete ogni parametro che viene preso dall'array off è un nuovo elemento dell'array quindi c'è un nuovo suggerimento uno è l'array from e quindi era quello che ci serviva e poi c'è un secondo suggerimento che è ugualmente corretto quindi riproviamo array from e questa volta ci viene il modify score di sette elementi vedete il length è sette questo va bene è corretto ma il vostro collega ci fa ci suggerisce una cosa come dire più in stile javascript vi ricordate lo spread punto my score tre punti my scores è la maniera diciamo più in stile javascript di fare queste cose e vedete che il risultato è lo stesso sempre my scores sette elementi grazie e questo è quello che lasciamo uno un qualsiasi stile metodo che funziona va bene però appunto vogliamo fare un po' di esperimenti quindi facciamo un po' di prove poi dobbiamo prendere dunque il testo diceva no questo non c'entra il testo diceva di eliminare i due score più bassi quindi allora per realizzare semplicemente questa cosa sapete sapete programmare quindi inutile che vi racconti tutte le storie diciamo in breve potremmo dire cerchiamo il minimo lo togliamo cerchiamo il secondo minimo lo togliamo va bene possiamo far così nulla nulla ci vieta voglio fare un po' di esperimenti allora ecco qualcuno suggerisce facciamo un sort esatto facciamo un sort così togliamo gli ultimi elementi e e poi così lavoriamo un po' sull'array e andiamo a vedere che cosa che cosa possiamo fare modifide scores punto tra l'altro ecco se scrivete nell'ambiente di sviluppo chiaramente se riesce a interpretare correttamente il codice javascript vi dà già qualche suggerimento su cosa si può utilizzare ovviamente devo sapere che l'array ha un metodo sort non che ci vada tutta questa fantasia in questo caso perché di solito in un linguaggio che si rispetti il metodo sort fa parte della libreria standard quindi il metodo sort quello che dobbiamo sapere è se funziona in place quindi sull'array o se ci ritorna un nuovo array allora ci sono due modi per scoprire queste cose uno è quello di provare come stiamo facendo adesso e poi vi dico anche quindi qui ce l'ha fatto in place questo è il modified scores vedete che adesso è ordinato quindi abbiamo scoperto che è in place altrimenti mozilla developer network array sort è il metodo diverso di scoprirlo è andarsi a leggere il riferimento su internet quindi andare ad aprire la guida di riferimento di javascript e sapere che cosa fa il metodo sort cerchiamo un motore di ricerca che è il modo più veloce per farlo array non preoccupiamoci di questo prototype diciamo sono tutti i metodi disponibili negli oggetti array il metodo sort ordina gli elementi di un array in place e ritorna l'array l'array stesso però l'ha modificato quindi se volessimo potremmo anche fare modified scores uguale però ci modifica l'array tanto vale che non lo facciamo ok quindi noi abbiamo poi bisogno di togliere i i primi due elementi dunque ce li ho ordinati in ordine crescente quindi posso fare modified scores c'era il shift adesso della verità non mi ricordo mai da che parte tirano via quindi devo fare la prova ce l'abbiamo sulle slide facciamo la prova ecco ci ha tirato via sì quelli corretti quindi 25 30 ci ha tirato via il 18 il 24 quindi è corretto e ci ha tirato via dall'inizio se andiamo a prendere le slide oppure di nuovo andiamo a a cercare mettiamo un po' shift no diciamo array vediamo se funziona se no usiamo google e facciamo prima array vabbè prendiamo shift e adesso vediamo se poi c'è ci sono gli altri metodi array shift lo sto facendo potevo andare tranquillamente a cercare nella pagina come si dice delle slide però volevo farvi vedere come andarla a cercare per conto vostro ok shift rimuove il primo elemento dall'array e ritorna quell'elemento rimosso il metodo cambia la lunghezza dell'array perché ovviamente modifica l'array se prendiamo il tasto refresh verde non deve stoppare e rivedere l'esecuzione ogni volta il sistema riconosce le nuove modifiche ok grazie c'è anche qualcuno che per fortuna ne sa più di noi di me e ok grazie e così appunto allora usiamo il tasto verde per fare le prove ok a questo punto abbiamo tolto i due valori più bassi e volevamo calcolarne la media mi ricordo c'era la media aggiungiamo due nuovi elementi alla fine uguale alla media arrotondata degli score esistenti sono 10 e 30 sì quindi allora come facciamo a fare una media se non abbiamo idea diversa e la media se non c'è un metodo media che non c'è almeno quanto ne so ce lo scriviamo come normalissimo codice no for diciamo let i uguale a 0 questo lo facciamo un po' tipo c in questo momento modified scores punto length i più più average più uguale sentitemi almeno il più uguale modified scores i e poi facciamo average uguale average diviso modified scores length quindi proviamo grazie al vostro collega che ci ha suggerito però forse non l'ho salvato vabbè ripartiamo eseguiamo tutto il codice in average viene fuori 28 ok quindi questo codice dovrebbe funzionare è molto diciamo così tipo c no perché perché abbiamo scorso l'array diciamo proprio col sistema tipico del c indice indice da 0 in su che non è sbagliato sia ben inteso siamo qui a imparare javascript e proviamo a farlo diversamente quindi abbiamo imparato a scorrere un array abbiamo detto c'era il for off mi ricordo non il for in ma il for off quindi for eh sì scusate il for è già scritto for off quindi noi possiamo fare const val valore off modify the scores e allora qui sommiamo non c'è più modified scores i perché i non ce l'abbiamo più val quindi salviamo c'è ctrl s ma una volta vi faccio vedere che salvo proviamo un po' restart ok quindi di nuovo 28 corretto esattamente come prima se volete debaggarlo lo potete tranquillamente scusate potete tranquillamente fare se la prima volta e vi vedete il codice che chiaramente gira quindi vedete che questo val tutte le volte è undefined fino a che non viene riassegnato però un nuovo val perché così funziona il for off e quindi posso scrivere quel const di cui dicevamo prima 28 lo sommo a average che starà nel global scope no scusate nel local 52 local nel senso di questo file e vado avanti e va bene insomma c'è niente di così particolare no e e ah si devo togliere il breakpoint quindi è un normalissimo debugger come quello che avete sempre visto no e 28 ok a questo punto abbiamo questo valore questo valore lo inseriamo modify the scores push average no perché diceva il testo il testo diceva aggiungere due nuovi score e mi raccomando dobbiamo fare due volte così oppure inserirlo in un for o in qualche altro sistema di ciclo che giri due volte ed è sbagliato scrivere push average average questo non funziona poi arriviamo alla questione del let quindi se noi scriviamo così quindi adesso salviamo ripartiamo vi voglio far vedere che cosa vi ritrovate cioè vi ritrovate sei elementi ma un elemento è un riferimento ad un array di due elementi che non è quello che vogliamo se proprio ci fissiamo così allora potevamo fare con cut adesso onestamente non mi ricordo se con cut ritorna penso di sì ritorni un nuovo array facciamo la prova se no dobbiamo andare a cercare sul manuale sto facendo un po' di prove modi diversi di risolvere lo stesso esercizio infatti modified scores quindi modified scores però se io metto modified scores uguale ovviamente non funzionerà perché l'avevo fatto const quindi provo faccio const aggiunge un array anidato sì sì proprio quello che volevo far vedere allora ah c'era l'error ecco sì assegnamento a una variabile di tipo const che non va bene quindi avremmo potuto scrivere modified scores average average sì però abbiamo bisogno di assegnarlo ad una nuova variabile quindi quello sì quello come diceva il vostro collega avremmo potuto scrivere modified scores virgola con i tre puntini ma il problema rimane sempre quello nel senso che abbiamo la questione del o creiamo una nuova variabile facciamola però a questo punto abbiamo tre variabili che girano mi dispiace un po' perché volevamo modificare l'array che avevamo già modificato questo funziona funziona no sicuramente è un buon uso di questo spread come abbiamo imparato l'unica cosa che ci crea il nuovo array no e allora per questo io tornerei al push push perché è inutile che abbiamo tre array no ne abbiamo uno originale uno modificato ci accontentiamo così e va bene qualcuno chiedeva avremmo potuto scrivere let al posto di const la risposta è sì sì è solo una questione di di abituarsi bene no come appunto adesso avremmo potuto fare tre array anziché due però erano davvero necessari tre array di nuovo questi sono esempi didattici quindi possiamo fare quello che vogliamo però poi appunto abituarsi a sprecare abituarsi a fare cose non così bene solo per pigrizia non è il massimo no ok quindi con let come avete visto funziona no la questione di usare const piuttosto che let è solo perché così la volta che mi dà errore io rifletto sul fatto se devo effettivamente usare un nuovo oggetto un nuovo array un nuovo creare una nuova variabile eccetera oppure no e magari questa riflessione mi fa capire che ho fatto un errore da qualche parte è tutto qui però appunto se uno fa let va bene lo stesso dal punto di vista del funzionamento a questo punto cosa devo fare faccio il mio console log e ho finito no myscores console log modified scores come vedete ho sempre usato il punto e virgola è una questione di nuovo di stile col punto e virgola difficilmente sbagliate quindi qui sotto adesso ci viene fuori i due array quindi questo è l'array originale 25 27 28 30 32 28 che ho aggiunto ok com'è possibile che console log stampi anche gli array beh diciamo che un po' come in molti altri linguaggi non ho necessariamente bisogno di creare una stringa anche se l'oggetto è più complicato perché questo oggetto hanno qualche modo di stampare di stamparsi una funzione una funzione predefinita che fa in modo che se io la metto dentro una funzione tipo appunto il console log che deve stampare questa va a vedere se c'è il to string se c'è la chiama se non è un tipo che non conosce quindi non è un intero una string eccetera e mi dirà errore però se c'è il to string la chiama quella ritorna una string ed è quello che viene fuori si poteva fare push push penso di sì perché se push ritorna un array vediamo se sì diciamo ok questa è questo funziona no non funziona non funziona perché push evidentemente non ritorna un array pensavo di sì perché ci suggeriva di sì ma ma andiamo a vedere push ritorna push la nuova lunghezza dell'array e quindi ci ha fregato non posso scrivere push push perché non mi ritorna l'array ma la lunghezza allora su un numero non posso fare push ok quindi c'è sempre una spiegazione però interessante grazie che ci ha fatto ci ha fatto riflettere su questa cosa se avesse ritornato un array funzionava avrebbe funzionato gli obgett hanno un to string inattivo lo dobbiamo definire noi hanno anche gli obgett dovrebbero avere un to string inattivo quindi console lo potete verificare semplicemente così log fate semplicemente a1 vediamo run vediamo l'ultima cosa vedete che ce l'hanno tra l'altro se fate il tutto nel debugger questi non sono semplici stampe ma addirittura potete andare a ispezionare ma questa è solo una funzionalità dell'ambiente perché appunto fa questo piccolo trucco per aiutarci c'è il vostro collega che ci suggeriva che potevamo fare così perché push prende più di un parametro andiamo a vedere add one or more elements to the end of the array quindi push vedete che passano con la virgola però non possiamo passare l'array ma possiamo passarli con la virgola a un numero variabile di parametri ecco questa è la la definizione formale no anche zero tutti quelli tra parentesi qua sono opzionali chiaramente zero ha poco senso però quindi potevamo fare push val 1 val 2 quindi due valori ok direi che abbiamo terminato questo primo esempietto sembra sia andato abbastanza bene adesso non mi ricordo rimettere mi consulto con gli altri docenti degli altri corsi ma credo che metteremo online questi piccoli pezzetti di codice che peraltro sono estremamente semplici e penso tra l'altro siano già online sul corso sul materiale dell'anno scorso che trovate andando sul sito del corso cliccando sull'anno scorso andando su github dell'anno scorso dovrebbero essere praticamente uguali forse l'anno scorso l'abbiamo fatti con un approccio un po' diverso perché avevamo già fatto la programmazione funzionale non ricordo dobbiamo un po' vedere allora andiamo avanti non perdiamo tempo se avessimo un array potremmo fare push di array penso di sì quindi facciamola al volo dunque average non lo so facciamo una prova comunque appunto bisogna fare delle prove evidentemente la risposta è sì quindi se avessimo un array l'array ce lo creiamo al volo questo è anche un po' il bello di javascript possono fare tante cose in line al volo e quindi ok ennesimo modo di fare la stessa cosa ok grazie che siete così attivi anche molto bello mi giro sempre perché ci sono anche le notifiche degli altri due corsi che sono in parallelo proviamo a fare il secondo esercizio che lavora un po' sulle stringhe poi mettiamo insieme il tutto usando gli oggetti e poi fondamentalmente abbiamo solo più le date ma sono una cosa breve quindi view full allora i miei corsi non parliamo più di voti parliamo dei nomi dei corsi e poi andiamo a mettere insieme tutto qui un piccolo programma per gestire i corsi definiamo i nomi dei corsi facciamo copia in coda dalla slide parsifichiamo la stringa e creiamo un array che contenga i nomi un nome per posizione assicurandoci che non ci siano spazi addizionali al di fuori prima e dopo del nome poi creiamo un secondo array in cui vogliamo fare gli acronimi dei corsi cioè le lettere iniziali dei vari delle varie parole che compongono il nome del corso facendo le maiuscole c a computer architecture c a web application uno sarà v a i perché l'uno l'abbia scritto con la i eccetera stampiamo il risultato e i nomi dei corsi e plus se vogliamo lo facciamo in ordine alfabetico e così diamo un'occhiata a come gestire l'ordinamento sorte l'abbiamo già visto in realtà potevo farvi vedere una cosa in più ma adesso la vediamo qui quindi allora cancello tutto devo procurarmi un mouse quindi allora no scorse l'abbiamo fatto volevo prendere devo fare il copio e incolla un po' più rapidamente che dalle slide per i nomi dei corsi quindi const course names ecco è come se avessi fatto copio e incolla dalle slide e lo lascio proprio così con gli a capo con tutto per gestire gli a capo uso il template literal che gestisce anche gli a capo quindi la capo fa parte della stringa se noi andiamo a vedere ecco mettiamo sempre dei bug quindi salviamo rieseguiamo andate a vedere cosa c'è in const course names o adesso è rimasto tagliata ecco c'è la capo no il backslash n quindi abbiamo una stringa ma non è pulitissima ok quindi è la stessa stringa che c'era sulle slide niente di particolare e vogliamo andare a prima di tutto dicevamo pulire la stringa trasformarla in un array e poi lavorarci sopra quindi allora prima di tutto io rimpiazzerei tutto ciò che ci dà fastidio come gli a capo quindi diciamo const modified string ricordatevi le stringe sono immutabili non sono come gli array quindi per forza creeremo nuove stringe non ci possiamo far nulla quindi course name replace quindi ecco qui c'è anche un piccolo aiuto e se non ci basta andiamo a cercare su internet quindi sulla Mozilla developer network per esempio il valore da ricercare e poi ciò che vogliamo che sia rimpiazzato allora il valore da ricercare quindi diciamo che backslash n e vogliamo io lo rimpiazzo semplicemente con la capo perché con lo spazio scusate potrei anche non mettere lo spazio potrei anche fare stringa vuota proviamo a vedere che cosa succede e facciamo che stampiamo sto sperimentando quindi quindi se qualcuno ha delle idee può anche proporcele proviamo quindi vediamo un po' cosa viene fuori è venuta fuori che ci sono sempre di a capo sì esiste lo split quindi poi per dividere usiamo lo split const cursis la soluzione ce l'ho ma voglio sperimentare insieme a voi split lo split serve a dividere su un certo carattere no un certo anzi qui non esistono i caratteri in javascript esistono solo le string quindi vediamo cosa succede cursis quindi sto proprio sperimentando insieme a voi cos'è successo ci ha fatto ci ha fatto un un array in cui abbiamo splittato e ci sono sette elementi no perché ha splittato sulla virgola va bene splittare vuol dire dividere andate poi a cercare sul manuale cosa fa splitt cioè sono metodi utili no in questo in questo contesto per lavorare sulle stringhe ve le abbiamo messe sulle slide appunto i principali proprio perché possiate un po dare un'occhiata vabbè assumiamo adesso questo backslash n non mi funziona per qualche ragione per qualche ragione o meglio penso di saperla però lasciamo perdere adesso perché dunque ha rimosso ma ha rimosso il primo no vedete che dopo il computer architecture se non c'è mi sembra ci fosse la capo si c'è la capo mi ha rimosso solo il primo eccetera dopo lo aggiustiamo allora vogliamo togliere i caratteri bianchi quindi white spaces come facciamo bene applichiamo a tutti gli elementi dell'array il una funzione apposta che ci toglie questi questi spazi oppure ce lo facciamo a mano però di nuovo diventa una cosa più sofistica più più sì possiamo fare replace all replace all oppure usare le regular expression replace chr3 il problema non è quello che abbia scritto male l'accapo perché ce l'ha tolto un accapo il problema è toglierli tutti proviamo adesso a concentrarci però sul eliminare e gli spazi dalle stringhe e gli accapo possibilmente for proviamo a fare così const val off no courses e diciamo che consentitemi di scrivere così che è sbagliato e adesso vediamo perché val l'uguale val c'è una funzione apposta che si chiama trim sulle stringhe e allora spostiamo il console log courses dopo perché no me l'ha persa vabbè lo rischio console log courses proviamo riproviamo ci va tanta pazienza lì ah replace all no non è una funzione replace e allora dobbiamo andare a cercare replace replace non c'è la nostra replace replace non c'è e allora quando siamo così javascript character replace all e andate in giro a cercare eh quindi dovrebbe esserci replace all sì perché non ce l'ha preso but it can be a string ok replace originally string is left unchanged ok perché immutabile perché però allora non ce lo prendeva next replace ora l'ho scritto correttamente replace all sei sicuro che fosse una stringa string b curioso eh onestamente adesso non so cos'abbia qualcuno ah lei va a replace all infatti non so perché non vada allora facciamo proviamo ma ah fallo sarà rimasto qualcosa non è che ho usato tipo la regular expression proviamo a far così no non va replace eh sì tema sarà un problema della string se noi scriviamo b sì no quando finisce manca proprio la libreria dovrebbe essere standard guardano dicono non è inges questo è curioso perché ce la troviamo su mozilla devopernet quindi avrei scommesso che era era inges vabbè sarà magari è dentro i browser non lo so vi tornerò con la risposta la prossima volta però raccontentiamoci se no quando rimaniamo bloccati così cercheremo una soluzione alternativa replace appunto la soluzione alternativa che vi offro in questo momento è quella della espressione regolare le espressioni regolari tra l'altro è utile conoscere e si scrive non ne abbiamo parlato ma si scrivono con il doppio slash e in mezzo c'è un qualcosa che appunto cosiddetta espressione regolare che è un modo sintetico per definire dei pattern da cercare e barra g vuol dire tutti se c'è bisogno poi parleremo di espressioni regolari però adesso assignment to constant variable ah si questo cos'è si perché names allora riproviamo ah no scusate assignment constant variable è più avanti quindi questo per ora funziona il problema ecco stavamo facendo non credo che il problema deriva da const qui il problema sicuramente deriva dal fatto che adesso stiamo stiamo togliendo gli spazi col trim trim è una funzione che toglie gli spazi dall'inizio e dalla fine della stringa non in mezzo perché quello che c'è in mezzo fa parte della stringa ma come in questo caso che è comune magari l'utente scrive qualcosa e batte uno spazio all'inizio rimane uno spazio alla fine e così via ricordate che javascript è nato per il web abbiamo la necessità diciamo di ripulire un po' le stringhe e allora c'è questa funzione trim apposta ok replace all ho supportato node 15 ma noi abbiamo il 14 quindi c'è la versione di sviluppo e quindi noi come facciamo andare a modificare gli elementi dell'array courses se vi ricordo è un array e questa sintassi che ci piaceva tanto purtroppo ecco qui è uno dei mi verrebbe da dire pochi casi in cui non va bene quindi la cambiamo e torniamo ad una sintassi più tradizionale let i uguale a 0 i minore di courses punto length i più più perché se dobbiamo andare a modificare courses abbiamo bisogno della i no il val che vedevamo prima for val of courses era dovuto al fatto che lì ci prendiamo una copia del valore non è lo stesso valore ok quindi second off usavamo let funzionava pure no no non rispondo mai ma se è breve lo faccio no non funzionava perché andava a modificare cioè non ci dava più l'errore non si può assegnare questo sì cioè questo errore spariva ma la casella nell'array rimaneva non modificata perché quel for off ci va a creare delle copie delle caselle dell'array del valore non ci dà il il riferimento a quella casella riferimento a quella casella dell'array lo possiamo ottenere solamente con courses aperta quadra o l'indice allora così possiamo assegnarci dentro quello che vogliamo questo sì e in effetti se proviamo adesso insomma salvo imprevisti dovrebbe andare ok abbiamo ripulito la nostra stringa e fatto un po' di esercizi con le stringhe salvo questo replace che poi vado a cercare con calma e vi dico ma mi sembra che il vostro collega abbia già determinato che probabilmente non è supportato il no.js quindi almeno in questa versione quindi no.js è un ambiente di esecuzione come tutti gli ambienti di esecuzione e se si sono dimenticati e per qualche motivo non ho voluto supportare qualcosa è una strada alternativa ok per l'esame si usa la sua versione prof in che senso usiamo la versione standard abbiamo detto nod nod 14 che è la versione stabile ultima versione va bene nel caso faccio sì perché la 15 non è la versione dopo la 14 solo le versioni pari sono le versioni che usiamo quindi 14 in questo caso perché la 15 è quella di sviluppo ok quindi non è stabile quindi sì sicuramente le conviene fare il downgrade usiamo la versione stabile perché ci sono già abbastanza problemi così problemi nel senso nel senso di compatibilità di tutto quindi vogliamo vogliamo avere qualcosa di sicuro sul quale lavorare a questo punto facciamo questi acronimi vi ricordate ancora abbiamo perso il filo dovevamo fare gli acronimi quindi computer architect su ca e quindi facciamo un po' di giochini con le stringhe non perdiamo troppo tempo a questo punto allora ci facciamo un array in cui mettiamo gli acronims ok quindi for ci giriamo i corsi course of courses singolare col plurale così ma giusto questa è proprio una questione di stile ok come facciamo a fare gli acronimi quindi su ognuno degli elementi dell'array dobbiamo andare a cercare il come si dice i vari e le varie iniziali delle varie parole e andare a mettere le maiuscole quindi dobbiamo girare sulle varie parole quindi andare a scorreci le parole quindi le stringhe e andare a capire dove c'è lo spazio a prendere il carattere successivo e metterlo maiuscolo però all'inizio abbiamo bisogno di prenderci il primo carattere c'è sempre e non è mai spazio perché abbiamo tolto gli spazi quindi possiamo dire diciamo let a o s s string potete anche marlacronim per fare però fatemi scrivere un po' meno se no non finiamo più course non courses ma course di zero questo è il primo carattere della stringa e e lo vediamo a maiuscolo quindi c'è to no come si chiama to upper case non tutto ci viene suggerito perché evidentemente l'ambiente di sviluppo non capisce che course è una stringa non è riuscito a capirlo allora non ci suggerisce la cosa esatta e poi e poi ci facciamo il giro sul resto della stringa quindi for let i uguale 1 quindi partiamo da 1 perché il primo carattere l'abbiamo già fatto i minore di course course punto length i più più e apriamo la graffa che mi sa che dobbiamo fare un po' di operazioni if courses anzi course di i i meno 1 no è uguale uguale alla allo spazio e qui potete mettere il doppio il triplo uguale perché dovrebbero essere tutte e due stringhe mettiamo il triplo uguale stiamo tranquilli ma dovrebbe funzionare anche il doppio uguale s ci concateniamo il nuovo carattere course di punto to a perché ecco stavolta me l'ha visto e poi e poi alla fine abbiamo in s l'acronimo quindi dovremmo aggiungerlo ad acronyms acronyms questo è un array push alla fine s no abbiamo chiuso tutte le graffe sì e quindi qui facciamoci console log di acronyms ok dunque no nessuno scrive sul course allora facciamo la prova e vediamo se ho sbagliato qualcosa dunque 18 cosa c'è che non va no allora ho salvato rilanciamo ok cosa ho combinato ah dovevo mettere le graffe chiaramente perché erano più istruzioni come in c chiaramente no le graffe del foro esterno perfetto la variabile course variabile course non credo quindi ok eh eh quindi course 0 course length course course to uppercase e qui in cost ah dobbiamo dichiarare cost course cost course nel for sì giusto grazie chiaramente così no lo sviluppo di codici bisogna un po' provare ecco adesso ci siamo quindi web application 1 computer architecture cos'era data science eccetera eccetera e abbiamo risolto il nostro esercizio e abbiamo fatto un po' di pratica con le string con catenare uppercase rimpiazzo trim chiamo dei metodi abbiamo scoperto questo replay sole e così via ok terzo esercizio mettiamo insieme quello che abbiamo visto prima quindi mettiamo insieme i due esercizi precedenti e vogliamo rappresentare il tutto in una maniera un po' ragionevole no quindi codice del corso con nome del corso cfu quindi numero di crediti e il voto che abbiamo preso boolean eccetera eccetera e proviamo a farlo con un oggetto no così così proviamo un po' gli oggetti se no alla fine abbiamo abbiamo parlato tanto degli oggetti ma non li abbiamo ancora provati allora visto che il tempo stringe un po' io vi farei vedere già il il codice dunque esempi no dove l'ho messo ah l'avevo cancellato perché volevo farvi vedere la necessità che abbiamo quindi diciamo che avete il codice però dunque lavoriamo in una nuova cartella quindi io mi creo una nuova cartella esempi dove l'ho messo mi è andata sull'altro schermo esempi no quindi diciamo questo era il dunque libretto libretto la apro qui quindi facciamo a open folder Visual Studio Code non ha tanto cioè ha il concetto del progetto ma fondamentalmente il progetto è una cartella in cui lui salva qualche file nascosto quindi nel momento in cui apro una nuova cartella se ci sono dei file dentro me li fa vedere se no diciamo che ho aperto un nuovo progetto faccio un nuovo file diciamo libretto punto js ok e appunto consentitemi di di andare a prendere quello che abbiamo già perché se no non ci stiamo dentro 11.30 e io appunto ho un po' di codice già scritto allora use strict poi arriviamo alla questione della data questi sono solo commenti questo è il modo abbastanza standard di inserire dei commenti perché così la documentazione viene fuori della documentazione automatica eccetera ma di per sé potremmo anche far sparire tutto è solo un commento concentriamoci sul sotto function exam con la E maiuscola con dei parametri this 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 è il modo per definire una funzione che crea un oggetto una funzione costruttore che crea un oggetto ok exam lasciamo perdere il resto andiamo a vedere dove è usata const web application 1 new exam e devo passargli tutti i parametri se gli mettete il commento ben fatto vi viene fuori l'help quando ci passate sopra tutto qui oltre che essere una buona pratica lo sapete perché commentare un po' il codice chiaramente aiuta soprattutto nel futuro anche solo noi stessi primo parametro il codice se una stringa poi un'altra stringa un numero javascript non fa differenza nel senso che siamo noi che abbiamo detto che è un numero eccetera ma di per sé lo sapete che il tipo ce l'ha il valore non la variabile quindi 6 credit valore 30 false e addirittura possiamo dare un nuovo oggetto riferimento al nuovo oggetto adesso andiamo a dare un'occhiata exam exam quindi questo è l'oggetto exam e se io vado a eseguire il codice ecco fermiamoci qui facciamo ah no adesso non posso perché devo dirvi un'altra cosa va bene avremo un oggetto anzi due oggetti va1 sdp con delle proprietà diamo un'occhiata a quell'ultima parte delle delle date quella che abbiamo lasciato un attimo in sospeso dopo 5 minuti e poi andiamo a finire l'esempio quindi date allora esiste un oggetto date in javascript suo di suo che mantiene l'informazione della data con la precisione nel millisecondo contatto dal 1 gennaio 1970 UTC la famosa data dell'epoca UNIX e occhio che UTC che non è il nostro fuso orario quindi questo già ci crea dei problemi attenzione alle ai fusi orari time zone in inglese e lo possiamo creare così eccetera però di nuovo bisogna fare attenzione perché c'è la stampa in formato locale cioè a seconda del computer dove pensa che si trovi il computer noi in Italia abbiamo un fuso orario diverso appunto dall'UTC eccetera qui c'è lo stampa e tutta la formattazione il parsing eccetera deve sempre sapere se la data è scritta in un formato o nell'altro ci sono formati più standard diciamo che includono il fuso orario o no i confronti i meccanismi per andare a confrontare le date eccetera che ovviamente non vogliamo assolutamente scriverci noi come codice mi raccomando sono un po' complicati nella libreria standard per cui noi vi raccomandiamo di usare delle librerie già fatte l'anno scorso usavamo Moment che purtroppo anche questa qui che purtroppo è stata deprecata per una serie di motivi non perché mal funzionasse ma perché insomma la trovavano troppo grossa troppo pesante eccetera noi quest'anno vi consigliamo di provare con DayJS che invece è l'opposto è molto piccola un meccanismo di plug-in e quindi qui incontriamo il primo la prima cosa che dobbiamo imparare a fare e che sarà comunissima nei nostri programmi javascript cioè imparare ad usare una libreria esterna c'è tutta la racconta di come funziona DayJS adesso non so se abbiamo tempo di entrare in tutti i dettagli sono oggetti tutto è un oggetto è una libreria quasi praticamente qualsiasi libreria vi creerà degli oggetti che fanno quello che deve fare la libreria vi gestisce tutto quello che deve gestire e come facciamo a usarla ecco questo ve lo devo far vedere perché altrimenti poi non riuscite a provare quell'esempio in javascript c'è tutto un sistema di gestione dei pacchetti abbastanza raffinato che poi mano a mano che andiamo avanti ci impratichiamo anche in laboratorio eccetera e diremo qualche parola in più quando parliamo dei moduli eccetera ma fondamentalmente la dobbiamo importare no? non è esattamente come l'import come come l'include del C no? perché in realtà in C le libreria si linkano si linkano però se volete è un po' è un includere è un po' come un include in PHP che include proprio il codice no? e qui in javascript funziona in questa maniera const.js require.js il problema è che dobbiamo averla installata e questo si fa dalla linea di comando con un programmino che avete installato insieme a node che non sapete che c'è ma c'è sicuro se l'avete installato se avete installato node che si chiama npm npm install djs lui va a scaricarsela dalla rete e ve la installa localmente e poi la usiamo con questa sintassi ok andiamo a fare la prova perché ci tengo al fatto che è riuscito almeno a provare l'esempio che poi eventualmente mettiamo online quindi quindi siamo mi raccomando siamo in una directory diversa solo per questo progetto solo per questo esempio vedete che qui sopra abbiamo const djs require djs quello che abbiamo visto sulla slide però se io eseguo adesso non funziona nulla perché mi dirà che non c'è anzi anche ben criptico non ah no ecco cannot find module djs normale allora io vado sul terminale che mi dovrebbe portare nella directory che ho creato prima e dopo i due comandi di prima npm init ok ok do sempre invio va bene tutto 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 ok e se sono curioso mi ha creato un file apposta adesso non mi interessa in questo momento npm install djs dovete essere collegati a internet lui va a farsi tutti i suoi lavori e se la scarica e se la installa ok intanto vi spuntano dei file nella cartella vi è spuntata anche una cartella in cui c'è appunto questo djs eccetera però voi avete sempre il vostro file libretto json jss scusate non json jss a questo punto proviamo a eseguire ok ok avevo messo il breakpoint e allora vado a vedere nel debugger poi lo lascio andare fino alla fine avevo messo il breakpoint per vedere che c'era va1 va1 vedete che è un oggetto exam che ha cfu code eccetera incluso questo oggetto date sì questo djs che è una proprietà di nome date che volendo posso anche aprire però vado dentro la libreria ok quindi prima di tutto sono riuscito a far funzionare l'esempio adesso l'ho eseguito fino alla fine mi fa tutte le operazioni che doveva fare quindi numero 1 sono riuscito a far funzionare l'esempio sulle slide trovate tutto il racconto di come usare il djs eccetera a noi fondamentalmente interessa in questo piccolo esempio semplicemente andare a creare un oggetto data da una data sotto forma di string perché noi siamo umani e le date le scriviamo come string e poi avete sulle slide io adesso direi che sembra proprio eccessivo andarsi a leggere tutte le slide per andare a capire come funziona la libreria è chiaro che dovete poter fare le varie operazioni in cui calcolare una differenza di date se è lo stesso giorno un giorno diverso se è il giorno dopo la stessa ora eccetera insomma potete andare a fare tutto quello che volete in più ricordatevi che date dayjs ha la necessità di plugin per andare a fare a far funzionare certe cose che non sono incluse nella libreria base che dicevamo prima è veramente piccola e quindi gestisce proprio il minimo delle date e per far funzionare le cose dovete prima di tutto installarle quindi in quindi dopo averle installate potete andare a scrivere queste righe in javascript e queste effettivamente caricheranno il codice corrispondente ok quindi concludiamo sull'esempio e andiamo a dare un'ultima occhiata all'esempio l'esempio ci chiedeva di definire il nostro oggetto e noi l'abbiamo fatto con una funzione costruttore ecco col this e avete visto che quando facciamo new creiamo un nuovo oggetto ok poi ci chiedeva addirittura di fare un secondo oggetto con una funzione costruttore in cui potevamo creare dei metodi volevamo creare dei metodi cioè in tutti possiamo creare dei metodi noi qui volevamo creare dei metodi per esempio this add uguale e gli assegniamo una funzione una funzione scritta sotto forma della sintassi arrow function parametro freccia this list punto push this list è un array punto push parametro e quindi nel momento in cui io voglio usarlo new exam list exams punto add che è una proprietà che in realtà per come l'ho definita corrisponde ad una funzione perché gli ho assegnato una funzione mi passo un parametro e questo mi aggiunge all'array contenuto nella proprietà di exam l'oggetto di vao1 e l'oggetto sdp dopodiché posso andare a fare tutto quello che voglio quindi find eccetera sono altri metodi che ho definito tra l'altro credo che l'esercizio fosse anche un pochettino più lungo quindi metterci i metodi add i metodi find after date list by date list by score average eccetera insomma tutto quello che voglio io direi che vi lascio come esercizio di provare a completare appunto l'esercizio tanto ce l'avete nella registrazione poi adesso mi consulto con gli altri colleghi penso che lo metteremo online spero però proprio almeno magari non immediatamente così vi diamo il tempo di provare e sperimentate un po' con quello che abbiamo visto appunto su soprattutto direi a questo punto su oggetti e funzioni perché diciamo sugli array string abbiamo visto un po' tutto quello che c'era da da vedere se avete dubbi o domande volentieri vi posso rispondere se no visto che siamo già passati abbiamo già passato il nostro slot dovreste credo non avere nulla per la prossima ora e mezza però insomma dobbiamo terminare la lezione qui ci sono dubbi o domande non non ne vedo per ora quindi provate provate un po' per conto vostro adesso sapete usare Visual Studio Code che è lo strumento che useremo per tutto il corso per sviluppare il codice sia quello a sé stante come adesso sia quello dentro il browser quindi provate perché per imparare a programmare in un nuovo linguaggio l'unica appunto è provare cercare di capire cosa c'è che non va e poi inizieremo non appena possibile i laboratori e comunque se avete dei problemi particolari appunto nel limite del possibile cerchiamo di rispondervi direttamente anche su su Slack con questi sistemi anche offline indipendentemente dall'orario del corso va bene direi che terminiamo qui grazie e a questo punto continuiamo lunedì lunedì non c'è il laboratorio c'è sempre di nuovo lezione online tre ore come oggi e andiamo avanti con ulteriori argomenti di JavaScript per riuscire a portarci a fare qualcosa di interessante nel primo laboratorio non solo a giocare con delle stringhe eccetera come con gli esempi che abbiamo fatto finora va bene ho parlato fin troppo non vedo domande o dubbi e quindi direi che terminiamo qui grazie e a non edì arrivederci grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.